Un'adesione massiccia, il dato è emerso dal fatto che molti lavoratori che in passato magari avevano esitato a scioperare, oggi in pratica hanno aderito a questo sciopero. Quindi è la sensazione che forse sicuramente le organizzazioni sindacali hanno avuto ragione a proclamare lo sciopero perché le difficoltà ci sono tutte. Tra le difficoltà in Abruzzo c'è qualche criticità che emerge in maniera particolare rispetto agli altri dati della media nazionale? Ma intanto il dato che emerge a livello nazionale è il fatto che c'è una carenza di organico, c'è una carenza di organico sia per quanto riguarda il personale viaggiante, quindi i macchinisti e capi treno, c'è una difficoltà anche per quanto riguarda i servizi a terra, assistenza e biglietteria, c'è una difficoltà anche per quanto riguarda il settore manutentivo. Perché noi abbiamo il polo officina di Sulmone il quale andrebbe rilanciato in modo consistente, l'azienda più volte ci ha promesso degli investimenti in loco ma questi investimenti tardano ad arrivare. È molto importante per la nostra regione il polo manutentivo di Sulmone, è vitale sia per la forza lavoro, è vitale per l'assistenza ai treni, quindi crediamo che non può essere più che si ritardi gli investimenti in questa realtà.